si avvicina l'inverno e si avvicina la stagione degli aerosol croce dei bambini e non si sa perché ma delizia degli adulti soprattutto gli adulti italiani perché si continua a fare un uso indiscriminato degli aerosol anche se una moda esclusivamente italiana da un paio d'anni a questa parte si fa maggiore attenzione sulla dispensazione di questi farmaci tant'è che probabilmente vi sarà capitato di andare dal medico chiedere di farvi prescrivere il clenil o altri farmaci che comunemente si utilizzavano per l'aerosol e sentirvi dire guarda non te lo posso più prescrivere il fatto è che il medico non è diventato più cattivo semplicemente l'aerosol serve soltanto per due casi l'asma bronchiale e la laringite acuta in tutti quanti gli altri casi l'aerosol è assolutamente inutile anzi addirittura in molti casi contro producente e questo perché tenete presente che la maggior parte degli aerosol erogano una miscela di particelle di grandezze diverse le particelle più grandi si fermano tutte quante nella gola quindi una parte si va ad attaccare alla gola e una parte invece viene deglutita ingoiata e quindi poi nel tratto digerente viene inattivata la parte che rimane nella gola può dare raucedine può dare abbassamento della voce può dare candidosi orale cioè si forma un fungo nel cavo orale ma quanto arriva realmente a livello dei bronchi si è stimato che negli aerosol comuni soltanto il 10 per cento negli adulti raggiunga i bronchi e pensate un po il 5 per cento nei bambini e nei bambini sotto i due anni solo il 3 per cento quindi pensate quanto possa essere inutile per un bambino di 1 2 anni fare un aerosol ad esempio per una bronchite una sospetta bronchite per la tosse diventa una cosa assolutamente inutile e tra l'altro molto spesso anche controproducente ad esempio i farmaci che aiutano a respirare meglio possono dare tremori e tachicardia possono addirittura causare in alcuni casi anche se rari l'ostruzione dei bronchi quindi dare l'effetto opposto e quindi come ci si difende da queste patologie semplicemente facendo bere molto il bambino aspettando che passino perché si tratta quasi sempre di infezioni virali e consultando il pediatra soltanto se il bambino ha la febbre molto alta se si sente molto giù oppure se ci sono evidenti complicanze per il resto serve soltanto molta pazienza ci sono in commercio degli aerosol che permettono di selezionare il diametro della particella con questi aerosol si riesce ad avere una terapia più mirata cioè questi aerosol permettono di erogare soltanto particelle grandi se per esempio si vuole trattare la zona del naso o le vie aeree superiori particelle medie o particelle piccole se si vuole far arrivare il farmaco in profondità con questi tipi di aerosol si riesce ad avere una terapia un po più mirata ma comunque tenete presente che la frazione di farmaco che raggiunge la destinazione soprattutto se questa destinazione è i bronchi o i polmoni è veramente molto molto bassa bene dopo questa informazione scioccante vi saluto la porta sia con voi